buongiorno a tutti sono marco bisogni e benvenuti sul canale nel video di oggi parliamo di un fenomeno molto importante in fotografia ma anche poco noto quello della diffrazione sulla diffrazione ho scritto un argomento più approfondito sul blog vi metto il link in descrizione in questo argomento trovate anche il link a un'applicazione web per calcolare quando la diffrazione diventa significativa per la vostra fotocamera ma intanto diciamo come la diffrazione interferisce con le nostre immagini la diffrazione si manifesta come una perdita di nitidezza nelle immagini che catturiamo e quando è che si manifesta la diffrazione si manifesta in maniera progressiva in maniera graduale a mano a mano che chiudiamo il diaframma più chiudiamo il diaframma più gli effetti della diffrazione diventano evidenti la diffrazione però non dipende solo dalla chiusura del diaframma ma anche dalla grandezza dei pixel se noi usiamo gli obiettivi alla massima chiusura che ci consentono al diaframma più chiuso di solito f 22 sul 35 mm abbiamo una percepibile perdita di nitidezza nelle immagini come si evita questo si evita cercando di non chiudere il diaframma più del necessario questo non vuol dire che non bisogna usare diaframmi chiuse quindi non avere abbastanza profondità di campo quando è necessario però di non chiuderli più del necessario a volte per stare più tranquilli per stare più sicuri si tende a chiudere un po più il diaframma per non avere delle parti fuori fuoco ma al limite fate una cosa scattate a due diaframmi differenti uno di sicurezza se potete e uno che invece ritenete già sufficiente ma più aperto comunque detto questo la diffrazione non è un fenomeno che di punto in bianco si manifesta quindi da f8 in poi boom parte la diffrazione no è un fenomeno graduale quindi si è veramente evidente al diaframma più chiuso però aumenta gradualmente una nota a margine come lavorano gli obiettivi gli obiettivi eccetto alcune ottiche professionali danno il massimo delle loro della loro resa fra i valori appena uno stop più chiusi della massima apertura solitamente fino a f8 quindi un obiettivo che apertura massima 28 darà il suo meglio fra f4 e f8 per dire eccezione a questo discorso sono alcune ottiche professionali che lavorano già benissimo tutta apertura e le ottiche progettate per il formato micro 4 terzi che già tutta apertura lavorano bene di contro da chiusura f7 in poi f8 in poi la diffrazione diventa già più significativa questo perché abbiamo sensori piccoli e più affollati di pixel rispetto a un sensore più grande della stessa quantità di pixel totali va bene cerchiamo di mantenere un po il formato quick tip quindi il video di oggi finisce qui se vi è piaciuto lasciate un like andate a dare un occhio all'articolo del blog perché è interessante sia se volete approfondire ma anche per questo strumento che è linkato se volete continuare a seguirmi iscrivetevi al canale se non lo avete già fatto allora per ora un saluto e alla prossima ciao 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 ciao